Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est un chilometro di coda verso Livorno e rallentamenti verso Firenze. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo-Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Per altri lavori due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Per la viabilità cittadina Firenze in Viale Amendola ha chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48 fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!